Ghelas e non solo il nuovo anno dell'amministrazione comunale, nonostante il rilancio voluto dal sindaco Lucio Greco, rischia di aprirsi seguendo lo stesso canovaccio politico di quello che si sta chiudendo. In maggioranza la tensione è tornata a farsi alta e il sindaco Lucio Greco ieri mattina dopo l'ennesima riunione con i suoi ha scelto di mediare ritirando il nuovo contratto Ghelas ed optando per una proroga tecnica che deve passare dalla Giunta. Pare che entro oggi verrà definita. Diversi pro greco erano pronti a non votare l'atto ritenendolo segnato da errori e numeri da rivedere. Il ritiro è stato il colpo di scena della seduta di ieri della Sise Civica, l'ultima del 2021. L'avvocato vuole attendere ma senza però mettere in discussione la guida della municipalizzata che rimane saldamente nelle mani del manager Francesco Tranito. Il sindaco sembra andare avanti sul percorso intrapreso, i suoi però sono molto meno convinti e tra le fila dei pro greco è ufficialmente riaperto il caso Forza Italia. I consiglieri azzurri negli ultimi giorni si sono defilati, non hanno partecipato ai confronti con il sindaco né alle riunioni della Sise Civica per il contratto Ghelas. Il motivo è presto declinato. Secondo il coordinatore, cittadino di Forza Italia Vincenzo Pepe, il sindaco continua a non rispettare gli impegni presi con i partiti e i consiglieri. Era stato messo in chiaro, secondo lo stesso Pepe, che su atti e scelte fosse necessario un maggiore coinvolgimento. Puntualmente, invece, il sindaco continua a fare come se nulla fosse, ha spiegato lo stesso Pepe. Per il coordinatore forzista, il primo cittadino si comporta da direttore di un ufficio. Non ritiene che questa sia politica. Per Pepe, infatti, la politica è condivisione delle scelte. Anche su Ghelas spiega che gli atti ai consiglieri forzisti sono arrivati solo pochi giorni prima della discussione in consiglio comunale. Non c'è stato quindi neanche il tempo di valutarli con attenzione. Il dissenso forzista monta di nuovo, come già negli scorsi mesi, quando il sindaco aveva individuato il gruppo locale per avere una maggiore rappresentanza in giunta, per poi virare su soluzioni diverse. Il nodo politico di Forza Italia, la governance di Ghelas e un metodo condiviso ritorno sul tavolo della maggioranza. Ora l'avvocato rischia di trovarsi davanti ad un'ala critica che risorge solo a poche settimane da un rilancio che avrebbe dovuto appianare tutto. I civici sono in prima linea, non accettano l'atteggiamento degli alleati di Forza Italia ma neanche le condotte manageriali dell'amministratore Ghelas Francesco Tranito. Civici, ma non solo, ora spingono per una riunione anche urgente per valutare se la maggioranza esiste ancora oppure si ha di nuovo tutto da rifare. Per il sindaco greco saranno altri giorni in riflessione, non può rischiare di ritrovarsi ancora una volta davanti alla ruota delle scelte visto che il rilancio è politicamente fresco e nuovi cambi in corsa potrebbero rendere ingestibile l'alleanza. Molti dei suoi alleati pare non vogliano più accettare mediazioni senza veri risultati pratici. La maggioranza pacificata ad oggi sembra una casa piuttosto vuota.